Musica Serata Sky Vodka qui al Furionale Lounge Bar Organizzata da Raw Music A voi le immagini Musica Amici di Contrasto TV Siamo qui al Furionale Lounge Bar Con la serata Sky Vodka Questa serata era da parecchio che non si celebrava Non si festeggiava qui al Furionale Lounge Bar Le persone, quante persone si aspetteranno questa sera? Speriamo tante Intorno ai 300 hanno detto, poi non lo so Speriamo sempre di più Con una consumazione abbiamo saputo che ci saranno dei gadget Quali? Ci saranno dei gadget, braccialetto Sky, maglia Sky e cuffie Sky Questa sera sarà la serata Sky Vodka E vi aspettiamo qui al Furiorario per la prossima serata Siamo qui con DJ JR DJ Terrano Questa è una serata organizzata dalla Raw Music Sì, Raw Music è un gruppo di amici che si diverte a fare serate Il giro per i migliori locali di Napoli E questa sera ci ospita qui il Furiorario Vogliamo ringraziare Enzo Il proprietario che ci permette questa sera di esprimere Ormai diventati clienti fissi del Furiorario Lounge Bar Questa sera cosa avete consumato? Stasera abbiamo consumato un paio di birre Stiamo pensando di far fuori anche una bottiglia Tutti insieme e ci divertiamo Ma cosa hai consumato di più? La testa? Venite al Furiorario che si sta il top Ciao amici di Contrasto TV Ciao Contrasto TV Un saluto a tutti gli amici di Contrasto TV Siete grandi Un saluto a tutti gli amici di Contrasto TV Grazie a tutti i nostri amici di Contrasto TV